Iniziata ieri la Cinque Giorni organizzata dalla Scuola Internazionale di Rigenerazione Urbana e Ambientale. Parliamo della Fenice Urbana Summer School, rigenerare città, ambienti e paesaggi. Si è partiti ieri con il Convento dei Minimi per poi passare al Castello Carafa, l'introduzione del sindaco di Roccella Ionica Vittorio Zito e poi successivamente Alessandro Bianchi, direttore della Summer School. L'intervento introduttivo di Gianni Cera, presidente di Unipace e poi l'Alezio Magistralis di Alessandro Bianchi sui fondamentali della rigenerazione. Il programma prevede cinque giorni che si alterneranno tra il Convento dei Minimi e lo straordinario Castello dei Carafa di Roccella Ionica, dove l'appuntamento si concluderà giorno 5 settembre, dove ci saranno le discussioni delle tesi e la consegna dei diplomi dei partecipanti. Questa sera iniziamo la Summer School in rigenerazione urbana del paesaggio e delle città che abbiamo voluto ospitare qui a Roccella, una Summer School organizzata dalla Fenice Urbana in collaborazione con R-City e l'Università per la Pace. È un appuntamento molto importante e molto interessante. Saranno cinque giorni di studio nei quali si ragionerà attorno alla ripresa e alla rigenerazione urbana che ci attende nell'era post-Covid. Una iniziativa rivolta non solo agli addetti ai lavori ma più in generale a tutti i cittadini interessati a queste tematiche. La scuola proseguirà fino a giorno 5 e si concluderà giorno 5 con la consegna dei diplomi. Una grande opportunità per Roccella che abbiamo voluto cogliere immediatamente.